Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake natalizio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, frutta candida, uvetta mollata in acqua calda, gocce di cioccolato fondente, lievito per dolci, pasta d'arancia o scorza di una raccia grattugiata, cannella in polvere, rum, aroma di panettone, sale, nocciole e fichi secchi. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro, la farina, il lievito e il sale. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la pasta d'arancia, l'aroma di panettone, le gocce di cioccolato fondente, i fichi secchi tagliati a pezzettini, i candidi, le nocciole, la cannella, il rum e l'uva sultanina. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. trasferire in uno stampo da plum cake rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. il plum cake è cotto, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spennellare la superficie con marmellata e decorare con frutta candida. plum cake natalizio, grazie e alla prossima ricetta! tutta Oakley ugalata due 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.